I giorni del motore a scoppio sono contati, ha scritto l'Economist nel suo ultimo numero. Il più grande motore della storia dell'uomo, cioè la macchina che ha prodotto la maggior quantità di energia per la nostra specie, nei prossimi anni sarà rimpiazzato dai motori elettrici, che oramai hanno caratteristiche competitive con i motori a scoppio. L'auto elettrica Kevibolt, per esempio, ha un'autonomia di 383 km. La Model S di Tesla, può arrivare fino a 1000 km prima di dover ricaricare le batterie. Secondo un rapporto della banca svizzera UBS, il costo totale di proprietà di un'auto elettrica, cioè la somma del costo di acquisto, rifornimento e manutenzione, raggiungerà la parità con quello di un'auto con un motore a scoppio nel prossimo anno, anche se questo miglioramento, scrive l'Economist, arriverà a spese dei profitti dei produttori. Lo stesso rapporto prevede che entro il 2025 le auto elettriche saranno il 14% del totale delle auto vendute, una crescita del 1400% rispetto all'1% attuale.